Baciamo le mani. Che mince a fare, Leone? Baciamo le mani. Leone, su, chiedi che le devono baciare a te. Non arrivi adesso. Bravo, bravo. Stai imparando. Io sono cresciuto con il suo padre. Cioè, per me il suo padre era... Scusatemi tutti. Io credo che il nostro giovane amico ha qualcosa da dirci. È vero, Leone? Beh, che dirvi? Tutta la vita che cerco la mia famiglia, finalmente l'ho trovata. E viva la famiglia! E viva! 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 Viva!